Era in Arabia Amsterdam Polizetto a cavallo nel locale per prelevare un tipo a migra nu nel e met in e l l l l come si, come dai guarda guarda che traccia ad di pade stai sapendo a se non stai loco 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 ora guarda il resto il resto della madame come stavis eh la l'onfossi a va like no wie be finger vai f*** ah No! No, c'è niente. David? No, 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 no! 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 Sì, sessere, sicura, sicura Siamo sedramati. Siamo, insieme. come qui nel sudore Grazie